Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Tele Truria dedica all'attività del Consiglio regionale Come di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata Commissione vaccini, le relazioni di maggioranza e minoranza Concorso operatori sociosanitari, Bezzini risponde a Stella La Toscana e il regionalismo differenziato Chiusi i lavori della Commissione d'inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 In Consiglio regionale sono state presentate le relazioni di minoranza e di maggioranza della Commissione che era stata istituita nel luglio del 2021 Ad illustrare il lavoro svolto è stato il presidente Vittorio Fantozzi consigliere regionale di Fratelli d'Italia che si è detto soddisfatto per l'impegno messo in atto da parte di tutti gli schieramenti politici Tra le criticità evidenziate, quelle relative al piano pandemico regionale del 2008 alla gestione della comunicazione verso i cittadini e alle incertezze della macchina vaccinale nella prima fase La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio ma anche di tutti i toscani un testo condiviso su 200 pagine per 198 pagine tra maggioranza e opposizione È il frutto di un lavoro condiviso fatto sotto il segno di un alto profilo istituzionale e sostanzialmente vocato alla volontà di ricostruire tutti i passaggi della gestione pandemica della campagna vaccinale per sostanzialmente dare una valutazione sulla risposta del sistema sanitario regionale e nei limiti delle possibilità poter offrire anche degli spunti Questa relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse c'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, taluni situazioni dettate da una impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costate chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore covid in regione toscana A nome della maggioranza è intervenuta la vicepresidente della commissione d'inchiesta Federica Fratoni del Partito Democratico Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la regione toscana si è trovata a gestire come le altre regioni una situazione straordinaria, inedita e di caratura globale per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti pensiamo, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la giunta nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove l'istituzione delle USCA pensiamo agli alberghi sanitari ai percorsi protetti negli ospedali per i covid e non covid Fratoni ha poi sottolineato la necessità di risorse per il sistema sanitario da parte del governo centrale considerando inammissibile la riduzione della spesa sanitaria Tutto questo deve poggiare su una sostenibilità economica che non ravvisiamo in questa manovra finanziaria del nuovo governo che fa scendere l'investimento in spesa sanitaria che il governo Draghi ha lasciato a oltre il 7% al 6,6 nel 2023, al 6 nel 2024 immaginando appunto un sistema che in questa proporzione risulta difficilmente sostenibile La nostra macchina organizzativa, la nostra capacità di rapporto con i cittadini le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che come organizzazioni di volontariato medici e infermieri in pensione hanno contribuito a creare questo meccanismo ha consentito di superare il covid vantati dallo stesso generale Figliolo commissario nazionale come una delle due o tre regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia Oggi è stata presentata la relazione da parte dell'opposizione e poi anche quella della maggioranza purtroppo due relazioni divise rispetto alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini che è stata chiesta da parte delle opposizioni di cui ho anche fatto parte abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della regione toscana che da parte nostra non ha avuto coraggio soprattutto nella prima fase quando a livello governativo gestiva Arcuri secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee si è andate a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente e poi anche sulle vaccinazioni degli anziani degli ultraottantenni insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione Oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in regione toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte questo che cosa ha voluto dire ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini vista l'eccezionalità della situazione l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo quello che è fondamentale in una fase emergenziale è la gestione del panico della popolazione tutto questo non è stato fatto lo abbiamo scoperto dopo molti mesi grazie a questa commissione d'inchiesta che comunque non ha voluto essere un atto d'accusa contro nessuno ma portare se possibile delle puntualizzazioni in grado di poter far tesoro di quello che è stata l'esperienza la Toscana è stata la prima anche su nostra richiesta a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato cosa non ha funzionato sotto la pandemia in maniera molto acritica ma ovviamente in maniera oggettiva per vedere e di comprendere come è stata la risposta della regione toscana a quell'esperienza da Italia Viva a parte una richiesta forte è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale appunto partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta perché nel mentre le persone morivano nel mentre le persone venivano soccorse venivano in alcuni casi curate nel mentre il volontariato i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri e questo va messo alla luce va fatto una commissione d'inchiesta con poteri parlamentari quindi dalla Toscana dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente d'inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte L'assessore al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini ha risposto in aula ad un'interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia Marco Stella il tema affrontato è quello del mancato scorrimento delle graduatorie del concorso Estar per operatori sociosanitari nell'interrogazione si domandava quando le ASL inizieranno a chiamare in servizio chi è in graduatoria e di valutare che venga rimandata la scadenza della graduatoria di almeno un anno la graduatoria del concorso Estar per operatori sociosanitari non scorre perché di OS in Toscana ne sono già stati assunti 1800 in questi ultimi anni questa la risposta dell'assessore Bezzini un incremento evidentemente dovuto alle assunzioni di emergenza durante il periodo della pandemia e che in un certo senso ha saturato la domanda delle ASL non è soddisfatto della risposta il consigliere Stella siamo rimasti delusi meravigliati e anche amareggiati dalla risposta dell'assessore Bezzini che è venuto candidamente in consiglio regionale rispetto a due domande che noi abbiamo fatto in merito al concorso delle OS che si è svolto nel novembre la prova scritta e nel dicembre del 2021 la prova orale semplicemente chiedevamo ma perché rispetto a quel concorso ancora non è stato chiamato nessuno è venuto e ci ha detto ma perché li dovevamo chiamare alla fine abbiamo assunto dal 2018 al 2022 1800 OS in più rispetto a quelle che erano nel 18 il tema è un altro allora è perché avete fatto un concorso perché avete illuso 7000 persone che hanno partecipato al concorso perché avete detto a 7000 persone che hanno studiato si sono preparate sono andate alla prova scritta hanno passato la prova scritta sono andate alla prova orale nel dicembre del 2021 hanno passato la prova orale oltre 2000 persone che c'era un'opportunità di lavoro in regione toscana questo è il vero scandalo tutti i giorni giustamente i giornalisti tramite i canali stampa raccontano una sanità che non funziona liste d'attesa incredibili visite che non si fanno persone che non sanno a chi rivolgersi la Corte dei Conti addirittura fa un rilievo incredibile sulla sanità toscana ci sono 500 milioni di euro di disavanzo nella sanità e candidamente ci viene detto ma perché le dobbiamo assumere d'altronde abbiamo fatto un concorso abbiamo speso soldi pubblici aspetteranno il tempo che devono aspettare il 2 febbraio il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato presentato in consiglio dei ministri a Palazzo del Pegaso a riaccendere i riflettori su questa tematica è stato il consigliere della Lega Marco Casucci sostenitore del regionalismo differenziato Noi desidereremmo avere più coraggio da parte del governatore Gianni il quale limita la richiesta di autonomia ai beni ambientali e culturali per quanto ci riguarda invece dovrebbe essere stesa ad altre materie e soprattutto occorrerebbe una maggiore sprinta anche se a differenza di altri del centro-sinistra che stanno facendo soprattutto speculazione politica bisogna pure ammettere che il governatore Gianni su questo si dimostra un po' più aperto noi questa apertura l'accogliamo e gli chiediamo ancora più coraggio perché la regione toscana può gestire ancora meglio di Roma certe materie nell'interesse dei toscani tutto ciò è previsto dalla Costituzione l'articolo 116 comma terzo non vediamo e non capiamo perché alcuni amministratori alcuni sindaci di città capoluogo in particolare del sud siano così avversi perché è un'opportunità per tutti la proposta di legge Calderoli arriva e questo è un grande segnale per tutti noi questo l'intervento di Gianni sul tema dell'autonomia differenziata ma io ritengo che l'articolo 116 terzo comma della Costituzione è scritto in buona parte secondo l'ispirazione di un grande toscano Piero Calamandrei uno dei padri costituenti da cui poi anche nei trattati diritto costituzionale si parla per l'Italia di una democrazia regionale quindi non uno stato assoluto non uno stato federale ma un ordinamento regionalista ecco ci debba portare oggi a un nuovo regionalismo l'abbiamo visto con la pandemia se le regioni sono responsabilizzate in piena armonia con lo stato in quel caso il generale Figliolo da un punto di vista esecutivo i 9 milioni di vaccini inoculati in Toscana è stata tutta la struttura regionale che con grande efficienza è riuscita a farlo ma in generale in Italia questo è avvenuto in generale in Italia noi abbiamo potuto riscuotere i complimenti del ministro degli esteri tedesco che vi ricordate individuava l'Italia come esempio ecco in tante materie tutto questo è possibile ma ci sono materie in cui è possibile per le caratteristiche di una regione e quindi io più che chiedere 23 in materia di autonomia differenziata penso a 4-5 materie nelle quali so che la gestione regionale è migliore di quella statale ma per un fatto oggettivo perché da Roma venono non bene come noi possiamo il nostro territorio per caratteristiche del nostro territorio sui beni culturali noi abbiamo il 25% i beni culturali di tutta Italia questa era la nostra ultima intervista grazie dunque per la cortesia e attenzione vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti